Il film è composto da due parti. Prima parte, informazioni di base sull'animale. Parte seconda, i suoni dell'animale. Potete utilizzare i rumori in qualsiasi modo, dove volete, come volete. Completamente gratuito. La zanzara è un piccolo insetto volante appartenente alla famiglia dei culicide. È conosciuta per il suo morso che può causare prurito e disagio negli esseri umani e trasmettere diverse malattie virali e parassitarie. Questi insetti sono diffusi in tutto il mondo e giocano un ruolo importante negli ecosistemi. Nonostante siano spesso considerati fastidiosi o pericolosi per la salute. Le zanzare hanno una lunghezza che varia tra i 4 e i 6 mm e un peso di circa 2,5 mg. La loro aspettativa di vita media è di 21 giorni, sebbene possa variare a seconda delle condizioni ambientali e della specie. Questi insetti presentano un corpo snello, 6 zampe lunghe, 2 ali trasparenti e una proboscide lunga e sottile utilizzata per succhiare il sangue o il nettare. Le zanzare si nutrono principalmente di nettare, polline e, nel caso delle femmine di molte specie, di sangue di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi. Questa dieta mista consente loro di ottenere le proteine necessarie per lo sviluppo delle uova. Le zanzare sono a loro volta preda di diversi animali, tra cui uccelli, pipistrelli, ragni e pesci. Giocano un ruolo cruciale nella catena alimentare, servendo come fonte di cibo per numerosi predatori. Le zanzare sono presenti in quasi tutti gli ambienti terrestri, ma prediligono aree con acqua stagnante come zone umide, stagni e laghi, dove possono deporre le loro uova. Sono particolarmente abbondanti in regioni calde e umide, ma durante l'estate si possono trovare praticamente ovunque all'aperto. La loro presenza è meno frequente in ambienti estremamente secchi o freddi. La capacità di adattarsi a diversi habitat ha permesso alle zanzare di diffondersi in vasti territori intorno al globo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.